Un cordiale saluto dalla redazione di Florens Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori ci sono un chilometro di coda tra la Strassigna e Montelupo-Fiorentino in direzione Livorno e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra-Fiorentina in direzione Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. Il traffico invece per il momento scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Sulla strada provinciale 117 di San Zanobi nel comune di Firenzuola e sulla strada provinciale 129 di Massorondinaio nel comune di Scarperia e San Piero in provincia di Firenze sono in corsi lavori di manutenzione stradale. Info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!